in nome del padre del figlio dello spirito santo amen gesù ti amo con la tua volontà vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature mia divina maria ti amo nella divina volontà regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sorana regina a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farei da mamma e qua mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di di dio e come vivere in essa ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen maria madre di dio prega per noi 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 Tu bella preciosa, bella chiesa Vieni, divina volontà Vieni, divina volontà Viva il sangue e il dono della tua vita Divina volontà Vieni, 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 divina volontà Dal libro di cielo, volume 23 23 novembre 1927 Quando l'anima non dà il primato alla divina volontà, essa sta pericolante come soffocata in mezzo alle creature Quando l'anima prega che venga il regno della divina volontà, tutto il cielo fa eco alla sua preghiera Il mio abbandono nel Fiat divino è la mia vita, il mio appoggio, il mio tutto Il mio dolce Gesù si nasconde sempre di più ed io resto sola con questo volere così santo, immenso, così potente, che ad ogni sua moto getta e sprigiona da sé mari di luce e forma le sue onde luminose interminabili La mia piccolezza si sperde, sebbene comprende che ho molto da fare per seguire i suoi atti innumerevoli in un mare così vasto E sperdendomi nel Fiat divino, pensavo tra me, oh, se avessi con me il mio dolce Gesù, che conosce tutti i segreti del suo volere, non mi sperderei e seguirei meglio gli atti interminabili di esso Mi sento che veramente non mi vuole più il bene di prima Sebbene mi dice che non è vero, ma io vedo i fatti e le parole innanzi ai fatti non hanno valore Ah, Gesù, Gesù Non me l'aspettavo da te questo cambiamento che mi fa sentire una morte continua Molto più che lo sai che lasciarmi a lungo senza di te mi costa più della mia stessa vita Ma mentre so ed altro pensavo, il mio amato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto Figlia mia Piccola figlia mia, perché temi? Perché dubiti del mio amore? E poi se ti sperdi è sempre nel mio volere che tu resti mai fuori di esso Ne io potrei tollerare che tu uscisti un solo passo dai suoi confini No, no La piccola figlia della mia volontà starà sempre nelle sue braccia E poi come posso non amarti se vedo in te, in tutti gli atti tuoi, primeggiare il mio fiat? Non lo vedo pericolante come nelle altre creature e soffocato in tutti gli atti loro Perché non dandogli il primato sta sempre in pericolo in mezzo a loro Chi gli ruba i suoi beni Chi offende la sua luce Chi lo disconosce e lo calpesta Non dandogli il primato sta come un re che non dando gli onori dovuti A lui lo malmenano e lo vogliono I sudditi addirittura a mettere fuori del suo proprio regno Quale dolore? Invece nella mia piccola figlia la mia volontà divina sta al sicuro Non soffre Pericolo nei suoi sguardi Perché in tutte le cose create Questa figlia guarda i veli che nascondono la mia volontà Ed essa squarcia i veli E la trova regnante in tutta la creazione La bacia La adora La ama E segue i suoi stessi atti mettendosi a suo corteggio Non soffre Pericolo Nelle tue parole Nelle tue opere In tutto Dandole sempre tu l'atto primo degli atti tuoi Col darle l'atto primo Gli si danno gli onori divini Si stimare di tutto E l'anima riceve Come cose che le appartengono i beni del suo creatore Sicché per lei la mia volontà non si trova in stato pericolante Ma al sicuro Non si sente rubare la luce, l'aria, l'acqua, la terra Perché tutto è suo Invece chi non la fa regnare La deruba da tutte le parti E sta in continuo pericolo Dopo ciò Avendo seguito il mio giro nel Fiat Divino Stavo raccogliendo tutte le cose create Dove ci sono dominanti tutti gli atti del Fiat Divino Ed io raccogliendo tutto insieme Il cielo, il sole, il mare, tutta la creazione E portavo tutto insieme innanzi alla Maestà Suprema Per circondarla di tutte le opere sue E far chiedere dagli atti della sua stessa volontà Il regno del Fiat Divino sulla terra Ma mentre ciò facevo Il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno E mi ha detto Figlia mia Senti come tutto il cielo Fa eco alla tua domanda E ripetono fra loro gli angeli, i santi, la sovrana regina Fiat, fiat volontas tua Come in cielo o così in terra Siccome è domanda di cielo È il regno che a tutti interessa Si sentono tutti in dovere di chiedere ciò che vuoi tu Sentono in loro la stessa forza Della potenza della mia stessa volontà divina Da cui tutti sono animati E perciò ripetono La volontà del cielo sia una con la terra Oh com'è bello Com'è risuona armoniosa Quando un eco della terra investe tutto il cielo E forma un solo eco Una sola volontà Una sola domanda E tutti i beati dicono tra loro Presi l'ammirazione Chi è costai che porta tutto il corteggio Delle opere divine innanzi alla divinità E con la potenza del fiat divino Che possiede ci travolge tutti E ci fa chiedere un regno così santo Nessuno ha avuto questa potenza Nessuno ha chiesto finora Il regno del fiat Con tale potenza ed impero Al più chi ha chiesto la gloria di Dio Chi la salvezza delle anime Chi la riparazione di tante offese Tutte cose che si riferiscono alle opere esterne di Dio Invece il chiedere il regno del volere divino Sono le sue opere interne Che atti più intimi di Dio È la distruzione del peccato Non è la sola salvezza Ma la santità divina nelle creature È la liberazione Da tutti i mali spirituali e corporali È il trasportare la terra in cielo Per poter far discendere il cielo in terra Perciò chiedere il regno della mia volontà È la cosa più grande Più perfetta Più santa E perciò tutti i riverenti Rispondono al tuo eco E risuono nella patria celeste E la bella armonia Fiat voluntas tua Come in cielo Così in terra In questi scritti non è raro Che si incontrano espressioni memorabili E anche molto forti Che gettano delle grandi luci Su tutto quello di cui Gesù In questi lunghi 36 volumi Sono tanti i 36 volumi Parla Ormai sono 4 anni circa Che stiamo meditando Stiamo appena al 23 Insomma ce ne mancano ancora altri 13 Però sentire un passaggio Come quello conclusivo di oggi E' veramente Edificante Ecco io per rispetto Di quello che Gesù ha detto prima Facciamo qualche considerazione Anche su tutto ciò che lo precede Ma Sentire queste Queste parole Quindi Ci fa davvero comprendere Che significa Il regno della divina volontà E quali beni porterà Voi immaginate adesso La liberazione di tutti i mali spirituali Attenzione Corporali Sappiamo tutti quanti Cosa abbiamo vissuto Nell'ultimo tempo Immaginate qualcuno Che andasse a dire Che non farà nient'altro Per difendersi Da quello che accade Se non Chiedere il regno del Fiat E cercare di vivere in esso Fidandosi di questa promessa La liberazione di tutti i mali spirituali E corporali Immaginiamo No? Ti direbbero che è fondamentalista Che è matto Che è esaurito Che queste cose vanno bene Però, 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 però Sono provocazioni Sono Provocazioni nel senso Che dinanzi a questo Poi Ognuno di noi Nell'intimo del proprio cuore Deve chiedersi Deve chiedersi È davvero così? Ci credo che è così? Liberazione di tutti i mali spirituali e corporali Su questa frase Ci sarebbe da riflettere una settimana Vogliamo provare a fare l'elenco Di tutti quanti i mali spirituali e corporali Che ci possono essere Tutti, Gesù dice Non qualcuno Ma di alcuni Di molti Dei più gravi No Dice di tutti Di tutti Io tante volte sono contattato Mi scrivono Mi telefonano Ma sapete che sto vivendo Una divina volontà Però Lei dice Che non bisogna chiedere nient'altro Se non che venga il regno del Fiat Supremo Però io volevo provare Per tizio Caio Sempronio Ma lo posso fare? Dico Allora Figliolo mio caro Dico Lo posso fare? Che domanda Insomma No Mo ti pare che È proibita Fare una cosa Che Dio stesso raccomanda Insomma Di pregare per un'intenzione particolare Però La domanda È malposta Cioè Già uno che fa questa domanda Cioè Fare questa domanda Vediamo se riesco a spiegarmi Significa Non aver capito Quello che Gesù ha detto oggi Ha detto C'è stata gente Che Mi ha chiesto La gloria di Dio Ma è una cosa grossa E si è anche offerta Per questo È molato la vita C'è chi Ha chiesto La salvezza delle anime Ma vogliamo Ma di che vogliamo parlare? Cioè La salvezza delle anime È una delle cose più sante Da chiedere a Dio È una delle cose A lui più gradite Se uno prega Per la salvezza delle anime Fa una preghiera Certamente Super gradita All'Altissimo La riparazione Di tante offese Abbiamo celebrato Il mese di maggio Il mese di giugno Del sacro cuore Poi il mese di luglio Del sangue di Gesù La riparazione Delle offese Non è una cosa grande Da chiedere E anche da offrire Al Signore Altro che Eppure In relazione A chiedere Il regno Del volere divino Queste cose Gesù Le minimizza Le relativizza Ma che significa? Significa che Il più Contiene il meno Il più contiene il meno Col Col fiat Voluntas tua Sicuti in cielo E ti in terra Perché questo è il regno Della divina volontà Di fatto noi lo chiediamo In continuazione Nel Padre Nostro Però il Signore Vuole anche che Non facciamo Semplicemente La ripetizione La ripetizione a Pappagallo Della preghiera Del Padre Nostro Che per carità Dobbiamo farle Va bene Ma che questo Ci sia Ma che questo ci sia Nel nostro cuore Vuole pregare Per tizio Caio Sempronio Ecco Sai qual è La più grande Per tizio Caio Sempronio Ti chiedo Che per lui Fiat Voluntas tua Sicuti in cielo E ti in terra Prega così Eh ma quello Non c'è lavoro Bisogna chiedere Che trovi subito Lavoro Ma tu sei sicuro Che quello Trovi subito Lavoro È volontà di Dio Che non gli faccia bene Stare un po' di tempo Disoccupato Eh ma fa la fame La povertà È un male assoluto Secondo noi Sempre da Cioè Da evitare A tutti i costi Ma scusiamo La Sagra Famiglia di Nazareth Era poverissima Basta leggere Un pochino Di biografie Io recentemente Ho letto Il Consiglio La vita di San Giuseppe Dei Sorcecidi a Bai Che è stupenda Bellissima Ma sapete Quante volte La Sagra Famiglia Di Nazareth Arrivava A ora di pranzo E ora di cena Senza avere niente Da mettere sotto i denti Cosa assolutamente normale Loro chiedono la povertà La povertà La povertà Come dire Alla trullallero Che viviamo noi Quelli che erano in povertà assoluta San Giuseppe non si faceva pagare Oggi Il primo mercoledì del mese Gli facciamo un omaggio A San Giuseppe San Giuseppe Lavorava Si legge in quel testo E mica chiedeva Di essere pagato Se gli davano qualcosa Per un lavoro che aveva fatto Lì aveva pure Comprato i materiali Se lo prendeva come l'emosina E se qualcuno Gli ha ordinato un letto Vai riprende il letto E gli dice Arrivederci Arrivederci E pregava per lui E cioè Ha rimesso pure i sordi del legno Oltre che le ore di lavoro Liberissimi Chiaramente di credere Di non credere Insomma no Però Per l'immagine Insomma che io personalmente Mi sono fatto Della Della santa famiglia Di San Giuseppe Beh Un racconto di questo genere Proprio nella sua straordinarietà Ed eroicità Mi appare molto molto velo simile Perché nostro Signore Gesù Cristo Con il dovuto rispetto Non va a scegliere Il primo che capita Per sottoporsi alla sua autorità E Gesù stava sottoposto Alla sua autorità E per consegnargli Il tesoro più prezioso Che aveva Che era Madonna L'umiltà di San Giuseppe E la Divina Provvidenza Disposto con noi Nel Vangelo Non abbiamo neanche Una parola Di San Giuseppe Manco un A Non sappiamo nulla Ufficialmente Diciamo così Di lui Dai Vangeli Di quello Sappiamo quello che ha fatto Il che è tanto Insomma Perché per quel poco Di sapere quello Quello che ha fatto Perché è più importante Sapere quello che uno fa Che non quello che uno dice Perché è molto più importante Quello che si fa Di quello che si dice Però Rimane così No? Allora Questo per dire Sicuro che la puoi perdere Ma quello sta morendo di fame E non lavora Quindi bisogna chiedere Che trovi lavoro Si capisca bene Quello che dico Vuoi chiedere Che trovi lavoro Chiedilo pure D'accordo? Quindi Quella è una cosa buona Quindi Non c'è nessuna Controindicazione Ma quando si entra In una certa ottica Si capisce Beh io posso pure Chiedere Che Cioè Ma se non lo trova Non avvenga Come fanno i pagani Che Ah io ho pregato tanto Il nostro Signore Quella grazia non mi ha dato Quindi io faccio come i bambini Non mi ha dato questa grazia Quindi ora non prego più Non vado più a me Se non faccio più niente Perché una cosa Gli avevo chiesto Non me la date Ma non faccio più niente Questo lo fanno i bambini Ma Penso che Tutti quanti Conosciamo qualcuno Insomma Che è un bambino Un po' cresciutello Che fa così Questo non Cioè Non Per carità È umanamente comprensibile Questo modo di Di porsi No? Ma non c'è niente Di divino Di soprannaturale Allora Qui Luisa L'occasione contingente Come sempre È che Gesù Non c'era La sua grande Sofferenza Il suo grande Tormento Il suo grande Travaglio Gesù Si era Sottratto Con la sua presenza Sensibile Questo era Il grande Dolore Di Di Luisa Ma lui dice Stai tranquilla D'accordo Stai tranquilla Perché tu vivi Nella mia volontà Non puoi uscire Da essa Stiamo sempre Insieme Quando viviamo Nella volontà Di Dio Stiamo sempre Insieme E dice Dice delle cose Bellissime A Luisa Dice Guarda che In te Che cosa Che succede La mia volontà Non sta al pericolo La trovo Nei tuoi sguardi Pensiamo Ai nostri La trovo Nelle tue parole La trovo Nelle tue opere Così dice Gesù a Luisa Ci picchia E' veramente E' veramente Tanta roba No? E' bello Sarebbe bello E' chiaro Che Supponiamo Che Il nostro parlare Sia ancora A tratti Un pochino Non dico Sboccacciato Speriamo di no Però Capiamo No? Qui Gesù dice La mia volontà Sta al sicuro Non trova pericolo Nei tuoi sguardi Non soffre pericolo Nelle tue parole Allora Cioè Siamo un attimo logici No? Se io dico Uno sfrondone Dico una volgarità Una parolaccia Ma Gesù potrebbe dire La mia volontà Non soffre pericolo Nelle tue parole Rispondiamo Io non rispondo Io perché E' una domanda Abbastanza ovvia No? Allora Nei tuoi sguardi Se io faccio Uno sguardo impuro Ma dove stai Una volontà Non stai dentro Uno sguardo impuro Nelle tue opere Nei tuoi atti No? Allora Qui c'è sempre Dobbiamo sempre ricordare Che Luisa era Cioè La santità ordinaria Ce l'aveva già Cioè Questo è qualcosa Che va di più No? Adesso La famosa estate C'era divina volontà Nel tuo vestirti Punto interrogativo Questi giorni Anche su facebook Sto affostando Un pochino di cose Non è una cosa Da niente Non è una cosa Vabbè No no C'è la tua volontà Nel modo in cui Tu frequenti Le pubbliche spiagge C'è la divina volontà Non Chieditelo Io Sto Avendo tanta gioia In questi giorni Perché Mi arrivano Comunicazioni I contanti Di persone E E io Come dire Sono contento Ma sono contento Più che per quello Che dicono Che sono contento Di quello che dicono Ma per come Gli è venuto Cioè Che in incoscienza Dice Ma io lo sai Io vorrei Una divina volontà Però Sono stato al mare L'altro giorno E Mi sono sentito A disagio Dico Io non dico niente Dico Bene E che significa questo Vai avanti Ci arrivano da sole Perché quando c'è La divina volontà Nel cuore Quando uno si apre Tu potresti anche Avere delle situazioni In cui Gesù Adesso non potrebbe Dire di te Ah la mia volontà Non soffre nessun pericolo Nei tuoi sguardi 90 volte su 100 Forse Ma c'è quel 10% Dove il pericolo Lo soffre Ah non soffre Pericolo nelle tue opere Sì 80% Ma nel 20% Lo soffre Ecco Quindi Noi dobbiamo Fare attenzione Sappiamo Che si sta Nella divina volontà Anche qui Luisa Lo rifano Stava sempre Rigirando Come al solito Prendere gli atti Della divina volontà Nella divina volontà L'abbiamo visto anche ieri Dobbiamo avere sempre Una grande attenzione A cercare di fare Il possibile Per compiere In senso tecnico Gli atti Nella divina volontà Per riempirci di lei Per andarla a trovare Però insieme a questo Ci deve essere sempre Presente anche La dimensione oggettiva Mica posso dire Viene divina volontà Adesso mi si perdoni Che faccio un esempio Come dire A titolo di esempio Ma se non fosse un esempio Se non fosse per far capire Sarebbe una blasfemia No? Mica posso dire Viene divina volontà Nella parolaccia Che sto per dire A questo tizio Ma sarebbe una bestemmia No? Lo capiamo tutti quanti Ecco Prossimamente Se Dio mi aiuta Intendo postare Un bel tweet Ho ritrovato Una frase Molto bella Del cardinal Newman Santo Adesso Della Chiesa Cattolica Su quanto è importante La coscienza E come dobbiamo imparare Ad ascoltarla Perché è lì Che Dio parla Cioè Una persona che Mi chiama Mi contatta E già mi dice Mi sono sentita Di saggio In spiaggia Che cosa significa? Significa che Dio In coscienza Le sta dicendo Figlia mia Non voglio che tu Stai così Conciata In spiaggia Trova In mente di qualcosa E c'è sempre Qualche cosa Da inventarsi Sempre Non esiste In questa terra Problema che non C'abbia soluzione Non è detto Che io non ci debba Andare più in spiaggia Ci sono modi E modi Per farlo Eh ma se vado In certi modi Mi prendono tutti quanti In giro Trovo un modo Sobrio E Dignitoso Tale che Quando lo vivrai La tua coscienza Non ti rimproveri più E se qualcuno Ti prende in giro Ti perseguita Ricordati il Vangelo Sarete perseguitati Sarete odiati Da tutti A causa del mio nome Se il mondo Vi odia Sappiate che Prima di voi Ho odiato me Di che cosa Ti scandalizzi Se qualcuno Ti Sicuramente Ti criticheranno E ti Premetteranno La berlina Perché? Perché tu sei un segno Di contraddizione Perché non segui Il gregge Inteso In senso negativo Noi siamo Pecorelle di Gesù Gesù c'ha il suo gregge D'accordo? Ma C'è anche il gregge Che non sono pecorelle Ma sono caproni E pecoroni Di quelli che seguono Le modi dominanti Di quelli che seguono Il pensiero Così pensa Così fanno tutti Così pensano tutti E chi si azzarda A pensare diversamente Viene immediatamente Stigmatizzato Bollato Ridicolizzato Imarginato Eccetera Ma noi non possiamo Sottostare a questo gioco Assolutamente Noi dobbiamo piacere a Dio Non dobbiamo piacere agli uomini Noi dobbiamo fare la divina volontà Non dobbiamo accontentare Le volontà umane Certamente Avere buoni rapporti Con tutti Non mettersi a fare le guerre Inutili Non avere atteggiamenti Superbi O di provocazione O intolleranti Verso il prossimo Questo va tutto bene Ma io delle cose che faccio Rispondo a Dio Rispondo Rispondo All'opinione pubblica E se una cosa Io capisco Che non la devo fare Io quella cosa Non la faccio Oppure se capisco Che una cosa La devo fare Io quella cosa La faccio Sono capace A difendere Le mie scelte Non soltanto A farle Senza imporle a nessuno Certamente Ma a difenderle Io non ti impongo niente Ma io Non accetto Come dire Tu puoi pensare Tutto quello che vuoi Continua a fare Quello che Dio Quello che percepisco Essere ciò Che Dio mi chiede Può darsi pure Che mi sbaglio Se un giorno Dovessi capire Che mi sto sbagliando Rettificheremo Ma io in coscienza Adesso sento di fare così E basta Allora torniamo A queste ultime frasi Che sono veramente Meravigliose Nessuno La divina volontà Va benissimo Chiedere il regno Del voore divino Sono E chiedere Sono le opere interne Dice Gesù Gli attimi intimi Dio Cioè Cioè Che cos'è La distruzione Del peccato Non esiste più Dice Non è la sola salvezza Ma la santità divina Nelle creature Cerchiamo di scamparsela Dall'inferno E di raggiungere la salvezza Per carità di questi tempi Grande cosa Magari tutti lo pensassero Ma questa è poco Santità divina Santità divina E ancora Liberazione Di tutti i mali Spirituali E corporali I mali spirituali Facciamo un pochino Facciamo una piccola Rassegna stampa La depressione Vogliamo parlare Della solitudine Vogliamo parlare Dell'ignoranza Della mancanza Di discernimento Vogliamo parlare Della paura In cui La stragrande maggioranza Della gente Adesso sono terrorizzati Vivono terrorizzati Certamente Sono stati terrorizzati Ma tu mi puoi terrorizzare Quanto ti pare Ma se io Non sono terrorizzabile Tu puoi seminare Tutto quanto Il terrorismo Che vuoi Ma io non mi terrorizzo Perché riposo nel Signore Che è d'accordo I giochi Non vengono fatti Dalle circostanze Mutevoli E anche dai disegni Malvagi Che possono Odirsi sulla terra Quelli Il nostro Signore Li lascia un pochettino Fare Come Come si fa Con un gatto rabbioso Che lo si lascia Dentro un po' L'aglia A fare un po' Di baubau Ma Non comandano niente Questi qui Non contano niente Stanno vivendo L'orora Permessa dal cielo Per i suoi figli Ma se sfogassero pure Ma io vivo senza paura I mali spirituali Non esistono più Il male Il senso Della lontananza di Dio Il non senso Della vita Quel vuoto profondo Dove campo Un sacco di gente Pensate a tanta gente Del mondo dello spettacolo Che hanno Tutto quello che possono Dalla vita Alla solitudine Che si portano dietro Gli si legge dipinta In faccia E molte volte La cantano pure Senza nessun E tutti quanti contenti E idolatrarli Come Dio Nonostante che è evidente Che i testi di certe canzoni Sono un inno alla disperazione Che te devi idolatrar Come Dio Una persona Che ha speso la vita Per cadere nella disperazione I mani corporali Le manattie I disagi Le grandi tribolazioni Le grandi cose I grandi flaggelli È la liberazione È la liberazione Per cui Se non siamo liberati Da tutti quanti Queste cose Sono due le cose O Ancora il Fiat Divino non regna in noi Il che era più probabile Oppure Nonostante il Fiat Regni in noi Nostro Signore Nella sua infinita Preveggenza E provvidenza Va bene Regna in te Questa cosa Non la dovresti vivere Di per sé Però È necessario Te la chiedo A un sacrificio O per qualche Suo misterioso disegno Ma se no queste cose Non possono esistere più Per come io Per come io intendo Questo passo Come lo percepisco Sono molto molto evidenti Le parole di Gesù Ed infine Il trasportare La terra in cielo Per poter far discendere Il cielo in terra Mamma mia E perciò Conclude Gesù E concludiamo noi con lui Chiedere il regno Della mia volontà divina È la cosa più grande Più perfetta Più santa E perciò Tutti i diverenti Rispondono al tuo eco E risuono nella patria celeste La bella armonia Fia a volontà tua Come in cielo Così in terra Amen Grazie a tutti Ecco anche oggi ci rallegriamo Santa Vergine Maria Della meraviglia Il Signore ci ha detto Questo è un passo davvero Memorabile Ti chiediamo di ricordare Queste promesse di Gesù Distruzione del peccato Santità divina Liberazione Da tutti i mali spirituali E corporali È l'unica cosa che conta Quella che era tutta quanta La tua vita È quella che lo è Tutto ora in cielo L'unica cosa che conta È chiedere il regno Della divina volontà L'unica cosa Che conta Che possa essere anche questo L'unica cosa Che in tutto Per tutto Qualunque cosa Diciamo Preghiamo Facciamo Incessantemente Chiediamo all'Altissimo Nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni male Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico Nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria